Il rischio di vedere le proprie utenze, come gas e luce, lievitare da gennaio spaventa molto i cremonesi, anche perché si parla di un'impennata che potrebbe raggiungere il 50%. Aumenti per molti insostenibili, in quanto gli stipendi sono per molti già insufficienti a coprire le spese ordinari. È uno schifo. Cosa devo dire? Non ci sono parole? Un'allucinazione, un assurdo. Poveri noi. Non andiamo molto bene purtroppo, perché siamo sempre penalizzati, sperando che intervenga il governo e che ci dia qualche finanziamento o qualcosa di questo genere qua. Speriamo in bene però. Aiuto. È un disastro. Cosa ne penso? Che qui andiamo tutti quanti a catafascio, perché non si può il lavoro quello che è e tutto aumenta. La risposta è già in queste parole. Penso che andiamo male. Andiamo male. Penso che abbiamo un'inflazione altissima e andremo in un periodo proprio orrendo, bruttissimo. La tredicesima dei cremonesi, delle persone, come verrà utilizzata quest'anno? Per i regali o sarà destinata a altre realtà? Secondo me sì. Hanno troppa paura del futuro. È talmente tutto così incerto. E quindi secondo me non la spenderanno di certo. La terranno da parte per eventuali altre spese che possono capitare durante l'anno. Regalini e poi cercando di accantonare l'accantonabile. Presumo che con l'andazzo che c'è stato non saranno per pagare i regali. Per pagare tutto quello che ci hanno attaccato.